Ritorno ai profitti e macOS 1997-2007. Dopo un periodo di difficoltà negli anni 90, Apple iniziò a risollevarsi quando Steve Jobs tornò nell'azienda nel 1997. Next, la compagnia fondata da Jobs dopo aver lasciato Apple, fu acquisita per 400 milioni di dollari. Il sistema operativo di Next, NextSTEP, diventò la base per il nuovo sistema operativo Mac S, che fu introdotto nel 2001 con macOS Apps. Nel 1998, Jobs presentò l'iMac G3, un computer dal design colorato e accattivante che contribuì al rilancio di Apple. L'iMac G3 fu un successo commerciale e aiutò l'azienda a tornare ai profitti. Con il successo del sistema operativo Mac S dell'iMac, Apple introdusse diversi nuovi prodotti e linee di prodotti. Nel 2001, fu lanciato l'iPod, un lettore musicale digitale che rivoluzionò l'industria musicale. Nel 2007, Apple lanciò l'iPhone, che combinava telefono, lettore multimediale e navigazione su internet in un unico dispositivo, cambiando il panorama dei telefoni cellulari. Successo con iPhone, 2007-2011. L'introduzione dell'iPhone nel 2007 fu un punto di svolta per Apple. Il dispositivo divenne rapidamente un'icona culturale e un enorme successo di vendite. L'App Store, lanciato nel 2008, contribuì ulteriormente alla popolarità dell'iPhone, offrendo agli utenti una vasta gamma di applicazioni da scaricare e installare. Nel 2010, Apple lanciò l'iPad, un tablet che ebbe un impatto significativo sul mercato dei computer portatili e delle tavolette digitali. Era post-Jobs e dirigenza di Tim Cook, 2011 oggi. Steve Jobs morì nel 2011. E Tim Cook, il direttore operativo di lunga data di Apple, divenne il nuovo CEO. Nonostante la perdita del suo carismatico fondatore, Apple continuò ad avere successo. Cook ha guidato l'azienda attraverso il lancio di nuovi prodotti, tra cui l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPad mini e l'iPad Air. Nel 2014, Apple entrò nel settore della tecnologia indossabile con il lancio dell'Apple Watch. Nel 2016, presentò anche gli AirPods, auricolari wireless. Apple ha continuato a espandersi nei servizi, con il lancio di Apple Music nel 2015 e di Apple TV e nel 2019, una piattaforma di streaming video. Nel 2018, Apple raggiunse una capitalizzazione di mercato di oltre un trilione di dollari, diventando la prima azienda statunitense a raggiungere questo traguardo. Attualmente, Apple è una delle aziende più grandi e influenti al mondo, con una vasta gamma di prodotti e servizi che spaziano dagli smartphone ai computer, dagli auricolari agli orologi intelligenti e molto altro. La sua presenza nell'industria tecnologica e nel mercato globale è stata costantemente rilevante e innovativa. Apple, un'esplorazione dei prodotti hardware e software, conosciuta per l'innovazione e il design all'avanguardia. Apple ha plasmato l'industria della tecnologia con una vasta gamma di prodotti hardware e software che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo digitale. Hardware Macintosh e Macintosh, o Mac, incarnano un design industriale minimalista. Dai portatili MacBook Air e MacBook Pro ai desktop iMac, Mac Pro, Mac Mini e Mac Studio, questa linea offre una varietà di opzioni per utenti di diversi settori. iPhone, l'introduzione dell'iPhone nel 2007 è stata una pietra miliare nella storia della telefonia mobile. Con una serie di modelli come iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, l'iPhone continua a ridefinire gli standard per gli smartphone. iPad, lanciato nel 2010, l'iPad ha ridefinito il concetto di tablet multimediale. Con variazioni come iPad Mini, iPad Pro e iPad Air, questo dispositivo offre un'esperienza di fruizione multimediale, produttività e creatività. Apple Watch Rivoluzionario per il monitoraggio della salute e del fitness, l'Apple Watch è diventato un'icona tra gli smartwatch. I modelli come Apple Watch, Apple Watch 6 e Apple Watch Ultra hanno dimostrato l'evoluzione costante di questa tecnologia indossabile. Apple TV, presentato come dispositivo setup, l'Apple TV è stato riprogettato nel corso degli anni per offrire esperienze di streaming, noleggio di film e accesso a una vasta gamma di app. Audio L'ecosistema audio di Apple include una serie di prodotti come AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod e HomePod Mini, offrendo soluzioni di cuffie e altoparlanti intelligenti. Software Mac S, iOS, Watch OS, TV OS, Apple sviluppa sistemi operativi dedicati per ciascuna categoria di prodotto, offrendo un'esperienza integrata tra hardware e software. App e Suite Software La suite di produttività e-work per la scrittura, i fogli di calcolo e le presentazioni, insieme ad app come iMovie, Final Cut Pro X, GarageBand e Logic Pro X. Sono solo alcune delle offerte software di Apple. Servizi Apple offre una vasta gamma di servizi che vanno dall'archiviazione cloud con iCloud ai contenuti multimediali su Apple TV+, Apple Music, iTunes Store e App Store. Servizi come Apple Pay, Apple Core, Apple Fitness Plus e Apple Arcade ampliano ulteriormente l'ecosistema offerto da Apple. Il costante impegno verso l'innovazione, il design sofisticato e l'integrazione sinergica tra hardware e software sono i pilastri su cui Apple continua a costruire la sua eredità tecnologica. L'interconnessione tra i diversi dispositivi e servizi dell'ecosistema Apple offre agli utenti un'esperienza fluida e integrata, spingendo costantemente i confini dell'innovazione tecnologica. I primi loghi Apple e l'iconica mela morsicata. L'evoluzione del logo Apple è intrinsecamente legata all'identità e alla missione dell'azienda. Il primo logo, creato da Ronald Wayne per gli Apple One, raffigurava Isaac Newton seduto sotto un melo, simboleggiando la scoperta della gravità. Tuttavia, questo logo complicato non si adattava all'obiettivo di semplificare la tecnologia per il pubblico generale. Nel 1976, il design of Objean of creò l'iconica mela arcobaleno, rimuovendo il morso per renderla più riconoscibile e amichevole. Il logo divenne immediatamente sinonimo di innovazione e differenziazione, incorporando anche il richiamo al frutto proibito nel giardino dell'Eden. Origine del nome Apple L'origine del nome Apple ha diverse narrazioni. Una di esse risale al periodo in cui Steve Jobs lavorava in una piantagione di mele in Oregon, ispirandosi alla semplicità e all'unicità del nome. Si racconta che l'immagine di una mela su una copertina di un album dei Beatles abbia contribuito a rafforzare l'associazione con il nome. Jobs, inoltre, ha menzionato la sua precedente dieta fruttariana come influenza nella scelta del nome, affermando inoltre che voleva un nome che suscitasse interesse e fosse unico. L'ipotesi che la mela rappresentasse l'innovazione, con riferimenti a Isaac Newton o alla storia biblica di Eva, è stata anche proposta come spiegazione dell'associazione del nome con il logo. Pubblicità, slogan e marchio Apple nel tempo. Apple è stata conosciuta per la sua pubblicità innovativa e slogan iconici nel corso degli anni. Dal primo slogan buy it into an Apple degli anni settanta a think different utilizzato ampiamente e associato alla filosofia di Apple. Ogni slogan ha mirato a comunicare un messaggio distintivo e coinvolgere il pubblico. Altri slogan come the computer for the rest of us del 1984, I think, therefore iMac del 1998. And there's something in the year del 2008 per il MacBook Air hanno contribuito a definire l'identità dei prodotti Apple. Ogni annuncio è stato studiato per catturare l'attenzione, con grafiche straordinarie e musica accattivante, spesso lanciando nuovi artisti con le loro canzoni nelle pubblicità di Apple. Semiotica del marchio e fedeltà dei consumatori. La semiotica del marchio Apple ha sottolineato la forza dei simboli nel creare significati e connessioni emotive. L'iconica mela arcobaleno morsicata è stata interpretata come il simbolo dell'innovazione, della conoscenza e del desiderio di essere diversi. La fedeltà dei consumatori Apple è leggendaria, con fan appassionati noti come Apple Fanboy. L'azienda ha guadagnato ammirazione e fedeltà grazie alla sua missione di produrre i migliori prodotti e al suo ruolo di sfidante nel settore tecnologico. Conclusioni. La storia del logo Apple, l'origine del suo nome e l'impatto della sua pubblicità e semiotica del marchio hanno svolto un ruolo cruciale nel posizionare l'azienda come un'icona dell'innovazione e della creatività nel panorama tecnologico. La sua capacità di generare fedeltà e coinvolgimento emotivo nei confronti dei consumatori è stata una delle chiavi del suo successo. L'incredibile diffusione globale di Apple Inc., una panoramica dei suoi campus e negozi in tutto il mondo. Apple Inc., l'azienda iconica che ha rivoluzionato l'industria tecnologica con prodotti innovativi e un design avveniristico, ha una presenza globale che va oltre i confini della Silicon Valley, dove ha sede la sua centrale principale, campus e sedi centrali. Il cuore pulsante di Apple si trova nel campus di Cupertino, in California, a 1 a 6 Infinite Loop. Questo campus, costruito nel 1993, ospita sei edifici che coprono un'area di circa 79.000 metri quadrati. Nel 2006, la società ha annunciato la costruzione di un secondo campus, noto come Apoquac o l'astronave, progettato da Norman Foster. Questo edificio circolare a quattro piani ospita fino a 13.000 dipendenti e include una vasta area verde, una caffetteria per 3.000 persone e strutture come un centro fitness e un auditorium. Apple ha esteso la sua presenza ad Austin, in Texas, con due campus. Uno, con una vasta area di lavoro, ospita 6.000 dipendenti che si occupano di supporto tecnico, gestione della rete di fornitori e altro ancora. Il secondo campus ospita 500 ingegneri focalizzati sullo sviluppo di chip per futuri prodotti Apple. Il quartier generale di Apple per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, IMEI, si trova a Cork, in Irlanda. Operativo dal 1980 e con una forza lavoro in continua crescita, ora di oltre 3.300 dipendenti. Altri uffici regionali si trovano a Stockley Park, nei soborghi di Londra, e a Herzliya, Israele. Centri di ricerca e produzione. Apple possiede e gestisce centri di ricerca e produzione in varie parti del mondo. In Israele, ha aperto un ufficio a Herzliya, il terzo in questa regione, progettato per ospitare circa 800 dipendenti. Apple possiede anche un centro di ricerca ad AIFA, acquisito come parte dell'acquisto di Anobit. Negozi Apple. I negozi al dettaglio di Apple sono diventati icone della vendita al dettaglio e del design architettonico. Il primo negozio è stato aperto nel 2001 a seguito degli sforzi di Steve Jobs per migliorare la presentazione al dettaglio dei prodotti Apple. Oggi, con 499 negozi in 22 paesi, gli apposto offrono un'esperienza unica, caratterizzata da grandi vetrate, spazi aperti e personale specializzato. Il design innovativo dei negozi, caratterizzato da scale e cubi di vetro, ha influenzato il settore al dettaglio. AIO Covid-19 ha portato alla chiusura temporanea dei negozi al di fuori della Cina, con Apple che ha continuato a pagare i dipendenti durante la chiusura. Tuttavia, l'azienda ha annunciato la riapertura graduale di alcuni negozi, permettendo ai lavoratori di continuare in sicurezza la loro attività. Apple, un percorso tra critiche e controversie. Il percorso di Apple nell'innovazione tecnologica è stato impregnato di lodi, ma anche di forti critiche e controversie. L'azienda, lungi dall'essere immune alle contestazioni, ha affrontato una serie di critiche riguardanti diversi aspetti del suo business. Una delle principali critiche si è concentrata sul modello di sviluppo verticale adottato da Apple. Tale approccio ha portato accusazioni riguardo alla mancanza di adattamento alle logiche di mercato e alla produzione di prodotti non compatibili con il resto dell'industria. Questo ha a lungo ostacolato l'economia di scala, portando i prodotti Apple a presentare un prezzo più elevato rispetto alla concorrenza. Al di là di queste critiche, la chiusura e la gestione proprietaria delle tecnologie e degli standard sono stati oggetto di dibattito. La tendenza di Apple a controllare strettamente il suo ecosistema, sebbene abbia portato a una maggiore sicurezza, ha limitato anche le libertà degli sviluppatori e dei consumatori, generando discussioni su App Store e restrizioni sulle applicazioni di terze parti. La sostenibilità ambientale è stata un'altra area critica per Apple. L'azienda è stata inizialmente criticata da Greenpeace per l'uso di sostanze chimiche dannose nei suoi prodotti. Tuttavia, nel corso degli anni, Apple ha intrapreso sforzi significativi per eliminare queste sostanze e migliorare la sua impronta ambientale, ottenendo riconoscimenti per gli sforzi compiuti. Le controversie legali e sui brevetti hanno caratterizzato il percorso di Apple, coinvolgendo cause contro aziende rivali come Samsung e dispute riguardanti brevetti di diverse tecnologie. L'azienda ha anche affrontato questioni di antitrust e violazioni della privacy, inclusi casi in cui è stata multata per pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole, oltre a essere coinvolta in questioni di sorveglianza di massa come evidenziato dalle rivelazioni di Erwin Snowden. Tutto ciò ha contribuito a delineare un panorama complesso e controverso intorno ad Apple, mostrando come, nonostante i successi nell'innovazione e nel design, l'azienda abbia dovuto affrontare e rispondere a numerose critiche e contestazioni nel corso degli anni. In definitiva, l'evoluzione di Apple è stata plasmata non solo dalle sue conquiste tecnologiche, ma anche dalle sfide e dalle critiche che ha dovuto affrontare, spingendo l'azienda a modificare, adattare e migliorare costantemente le sue politiche e pratiche.